Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono Dallo e oggi vi porto alla scoperta di un posto sul lago di Zeo che si chiama È un monte e isola questo, guardalo è un monte ed è pure un'isola Appena arrivati sul lago ci siamo imbarcati dal comune di Sulzano E subito siamo stati esterrefatti e un po' imbroglioniti Che sarebbe un sinonimo tra imbrogliati e rincoglioniti Dal profumo tipico dell'isola Polenta e Alici, sì Polenta e Alici Nonostante le apparenze comunque l'isola è un gioiellino per tutti quelli che sono innamorati del trekking Infatti è possibile attraverso diversi sentieri arrivare fino al santuario in cima La difficoltà non è troppo elevata infatti vi potete portare anche i bambini Anche se magari facendo qualche sosta qua e là Questo perché comunque è pur sempre un'isola con un dislivello di circa 800 metri Ah e inoltre se avete il drone è anche strafigo farlo volare Perché potete fare delle riprese tipo questa Ecco, dietro questa storia di riprese c'è una storia infame Una storia fottutamente infame Di un tipo che mi ha passato le riprese in una definizione bassissima E io lo odio per questo E non li faccio pubblicità To E se pensavate che fosse finita non è così Ma è di sera che quest'isola tira fuori il meglio di sé Trasformandosi da luogo per i più atletici A posto piacevole per passare una serata in compagnia di amici O della propria persona speciale Grazie a queste luci che illuminano il molo Creando un'atmosfera dolce, romantica E... Oh, ma che sto a fare? In sintesi, il succo del discorso è che quest'isola mi è piaciuta tantissimo Sia di giorno che di sera Quindi spero che andrete a visitarla anche voi E... Sei un figo se ti iscrivi al canale E ancora di più se mi dai il pugno Grazie a tutti